Decide di sfruttare la fascia Buon lancio Conclusione Ben credibile Quello incredibile Una cercata perfetta Riescono quindi a pareggiare Tutto da decidere Ha sorpreso anche me con questa soluzione Il portiere è rimasto ipnotizzato Bravissimo lui E bravo l'allenatore che l'ha messo in campo Effettivamente ha ripagato il mister Della fiducia che gli ha dato mandandoli in campo Perfetto